musica 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 e bello ragazzi io sono Jesus e oggi si ripetono con me con Starforce 2 Zeracrix Ninja ma come vi avevo detto nello scorso episodio in questo cerchiamo un po' di potenziarci un attimino allora e come ci si potenzia è la domanda che mi chiederete voi allora ci sono diversi modi per farlo potremmo per esempio far passare tutti gli shop e comprare gli HP ok i PV massimi meh 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 io ho sempre chiamati HP premio non so perchè non chiedete non questionate e comunque tra parentesi queste carte qua le dobbiamo prendere ho pure le Giga 5 ok sto bene ehm quindi potremmo prendere uno di questi e li abbiamo finiti per questo negozio e farli passare man mano tutti così come vedete già siamo a 580 punti vita ma queste cose le possiamo fare anche off camera come si suol dire no? invece quello che volevo fare in questo episodio era aiutare questi 4 simpaticoni ok vedete le schede rosse? possiamo aiutarli tutti cane non abbaiare ah tra parentesi in questo episodio vorrei anche andare a prendere il trovacarte da che iniziamo? iniziamo dal più divertente non lo credo questa non aiuta? si vediamo un po' ehi è la zackpedia la zackpedia è un vascello antico forse utilizzato dai vichinghi per caso non ci parlare perchè c'è un casino della madonna vabbè spero che voi non sentiate quello che sento io vivamente gli spiriti vichinghi diventeranno onde M attireranno i corpi M wow non sapevo che attireranno i corpi M ecco perchè laggiù ci sono così tanti virus questo spiega tutto mmmm indaga credi sia davvero necessario? come vuoi andiamo a parlare a quel lamento mi invito una e-mail di prememoria è la prima persona che aiuto e già c'ha la Disney si e porta il mio nooo ragazzi purtroppo non ho altro tempo quindi dovrete sopportare questo orribile rumore domanda sul navigatore tutto ok Geo? cosa sai dirmi sulla nave affondata? solo un momento nave affondata secondo le mie fonti è un vecchio reddito che si trova in fondo all'Ocmess forse era un vascello d'esplorazione gli spiriti dei vichinghi sono diventati onde M che hanno attratto corpi M almeno così dicono ok grazie allora dobbiamo andare all'Ocmess e potete capire se ho chiamata questa la missione più divertente c'è qualcosa che non cosa ok mi ritrasformo perché tanto per salire sull'osservatorio se non lo sapete dobbiamo per forza essere umani e si voi che volevate farvele tutte a piedi un pochino comunque ce l'avevamo ce l'avevamo ce l'avevamo non mi avete potuto vedere no ho dovuto sfumare uuuu un venditore magari il tuo verde in mantelli o qualcosa di bello si voglio accettare voglio accettare grazie ok ragazzi sarà una cosa lunga e dolorosa uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci guattaglie di fila ahahah gli umani vedranno la nostra vera potenza cosa stai facendo eh chiunque il teffino avrà eliminato 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 ok ok ragazzi mi pento amaramente di aver fatto questa scelta di vita ma proprio me ne pento assai no 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 come mi hai fatto a prendermi do aiuto so che non prendo il pesce ma poco importa me ne devo liberare di almeno due no guardate mi stanno facendo fare un orribile fila è male che questo fa il doppio almeno due è un pesimo orribile no 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 perché la lanci perché la lanci perché la lanci perché la lanci no quanto sudare ed è la solo la prima o forse sono tre sono solo tra sfide mi sbaglio io no no sono giusto zac non ho mai fatto le cose a fare sfide allora guardate lì è che è non più scatole in mezzo ok non pensavo che fosse a eliminazione istantanea qualcosa cavolo avrei voluto recuperare più utilità ma prego mi perdoni io sono buono fantastico fantastico già eliminati in avanti e siamo ritornati dalla versione ah beh ma ci iniziamo di parare ci iniziamo di nooo non dirmi che ci scompare su legge lui e vorrei ancora di si è confuso oh è riconosciuto nooo è riuscito i pannelli quelli ragazzi questo campo di battaglia è un ogroio veramente un ogroio però ce l'abbiamo fatta ok temo molto per la mia incolumità in questo caso ecco vedete perché temo per la mia incolumità come cazzo faccio come faccio ti prego dimmi che prendi tutte tra le colonne perché sennò sono andate ok quasi allora non lo mettevo di pane no perfetto perché devi pararti davanti togli 60 a botto qualcosa nooo ma io avrò fatto del male guardate a combina qualcuno di questi inizia perché non è giusto però sei morto guarda l'altro che si trova come come fai a prendo il semi sposto ok qualcosa non tocca i pannelli il che mi va bene perché così non può morire per il vero io ero più pronto ok perfetto oddio spero vivamente per la mia incolumità di avere una lama nel di avere più di una lama ok ora il problema è il suddetto sempre fai 170 oh 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 falce è considerata una lama oh oh no questo no tutto ma non non questo no 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 giusto è un caso più selezionale gli elementi fuori stasera però li presto... noi o ne prendiamo due Ecco, vedete questo è il problema? Perché ora il campo è pieno di schifo Ok, pieno di schifo ma mi va anche bene Avrei dovuto recuperare vita prima ma penso che non sarebbe finita bene No aspetta qualcosa è vivo C'era una fila di onipanel in fondo Ok, voglio recuperare qualcosa Non avrei mai trovato un altro recupero se andavo avanti così Posso ufficialmente spararmi? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? E' una bruttissima combinazione Cosa cavolo fai tu? Ok, allora Così Ne blocchiamo due Così non ci... Non sei molto... No, perché devi essere sugli onipanel? Ok, ok, ok No, 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 no Mi sono preso un coniglio Ah, ci mi sono preso Tu Fai davvero quello che penso Ok Sei sugli onipanel Ahia, non paralizzi Guarda Zerkle Guarda Zerkle Non morivo più No, ce n'è ancora un'altra Porca la miseria No, vi ho dovuto più malissimo Allora, prima cosa è invisibile No, 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 no Non potete capire la fatica Ok, non fermo con un uccidio Ok Devo tronare di recuperare Aspetta, uso solo queste due caselle Vedi? La richiesta sembra di poter Perfetto Sì L'ansia, non potete capire Per un pelo Devi ringraziare me, non Zack Se sei ancora vivo un miracolo, Gero Dov'è quel uomo? Avviatore Ehi, cosa è successo? Hai trovato la nave affondata? Sì, l'ho trovata Zack Grazie a te riusciremo a salvare il mondo Davvero? Mi fa piacere esserti stato d'aiuto A proposito, ho una cosa per te Giotto in abilità potenziamento Classe giga più uno Anche no, grazie Ok, forse legame più cinquanta A cosa ci serve aumentare la forza legame, direte voi? Ovviamente a fare questo Tipo, io non voglio questo Non voglio questo Guarda un po', ho un più Quattrocento Tipo per quattrocento venti E quando ne abbiamo tante Equipaggiremo di quello No, per il momento mi tengo un duecento E poi abbiamo Due da cinquanta Vedete? E così riusciamo già a 630 Ok? Non è malaccio Non è male Non è male Ma si può fare di meglio Allora, sentiamo un po' Cosa vuole Bud Perché no? Vediamo un po' Ehi, il diario di Bud Caro diario Continuo a sognare quel toro fiammeggiante Ho sognato che prendeva possesso dal mio corpo Che incubo Temo che possa trasformarsi di nuovo Parlagli D'accordo Andiamo a parlarvi Mi avrò una Mi invierò Ragazzi, io non so dire quella frase Mi invierò una mail di pre-memoria 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 Non è difficile Mi invierò una mail di pre-memoria Prova da su navigatore Ok Geo, anzi Mega Man Ma vorrei una cosa da dirti Ti ascolto Ho paura di dire su nome di nuovo in quel mostro taurino Ho sognato che si impossessava di me Forse è meglio dare un'occhiata a casa sua Per vedere se sono davvero Sogni Hai ragione Ok, ci penso io Bud Non preoccuparti Forte Lo sapevo che potevo contare su di te Bud non c'è niente Scherzo C'è Taurus Fire Quindi sai che ti dico Perché c'è Taurus Fire E Taurus Fire Ecco cosa tormentava i sogni di Bud Il ricordo di Taurus Fire si è materializzato in questo mondo E poi ha cercato di possessarsi di Bud Arriva Ok Special Stai a scherzare Special Non mi sarei mai aspettato che fosse Special Vai E ho fatto fuori la tua versione EF Non dovrebbe essere così tanto difficile Avete visto quanto era vicino quel pugno? Io giuro che Avrei detto che mi avrebbe colpito Ah beh se trovo Valanga Se trovo Valanga La faccenda cambia Perché gli faccio 1.6 minuti No gli faccio 800 Scusate fa 800 Valanga C'è fa 400 Valanga Quindi per due 800 Dove ho fatto quello qua Chissà perché Salve lei Non è che magari mi dò la sua special No 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 Allora Fatti chiare vicinzia a me Cosa mi colpisci l'uomo che mi hai appena colpito l'uomo Peggio io no Lo fai anche tu Vorresti sapere 6666 Ok Potrebbe spaventarmi Serve Ok mi stai spaventando a morte Mettila subito Pensavo che in realtà Arrivasse lì più velocemente Avete presente? Ok non metto Dopo Zack sto giocando un po' a caso Ma Ehi Su via Permettetelo Ho appena fatto fuori un ordo di nemici che non finiva più No Come gli tolgo 200 Come gli tolgo 200 Come gli tolgo 200 Ma perché quelle fiamme rimangono là? Mai capito Più E allo stesso punto mi raccomando con Leo Come amministratore dei satelliti Le fiamme sono elementi fisici Ora è tutto a posto Presto svanirà da questo mondo E voi ti potrò dormire a sogni tranquilli Capite? Le fiamme in questo gioco Alcune Alcuni tipi di fiamme Sono considerati elementi fisici Quindi Anche se li schivate O vi parate La fiamme in parte è ancora un elemento fisico Un'entità E per cui vi danneggia Cosa? Quel toro mostruoso non vi tormenterà più? Ottimo Non so come hai fatto Ma ti ringrazio tantissimo Ecco una piccola ricompensa per te Giotina Un'abilità potenziamento PV500 P500 Ok E' un po' costosa Ehi Le dati musicali Non credo che dovremmo curiosare Invece si Titolo canzone ND Dato di pubblicazione ND La 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 Ehi ehi La 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 Felicità Torida La 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 Ehi 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 Ata da 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 Mi serve solo un pezzo tanto per queste melodie Ah è una melodia Ok Devi aiutarla Lo so ma Sì lo facciamo Perché sembra di essere La cosa più semplice da fare Andiamo andando su Navigatore Che succede io? Sono qui per aiutarti con la tua canzone Strano Non ricordo di aver chiesto il tuo aiuto Ehm Ricordi male Oh dici Ok Allora accetto il tuo aiuto Ecco come fa Inizia alla grande Ehm Alzati a per il veloce Sì Mi piace Adesso viene il bello Ehm Muovi i fianchi di più Sì Sì Allora Sorrida sempre Un bel sorriso grande Ok Questa parte è forte Scatenati e grida dai Davvero bella È molto rocchiabile Corri corri allegria Va bene Mettiamo uno dei bimbrot alla fine Bullzolge Geo Fido Bellissimo Cantiamo insieme La canzone di G Alzati e corri veloce Muovi i fanchi di più Un bel sorriso grande Scatenati e grida dai Corri corri allegria Geo Dedicato a un brother a cui tengo la A cui tengo molto La canzone di Geo Sarà un successo Geo tiene una carta battaglia Recuperata 100 Davvero Sonia Ho un'altra cosa per te Ok Sfondo Sonia Sfondo di Sonia No ragazzi Non dite quelle cose Che state perdendo No No Geo non lo userà sicuramente A quegli sconti Spero Comunque abbiamo Tre recuperate 100 Beh A livello di carte difensive Ci siamo No 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 Ok Ci ho fatto senza virus Diamo un'occhiata Questa una vita Ok Vediamo un po' Ehi Ho trovato il suo diario Ci ho detto Forse non dovremmo leggerlo Io lo leggo lo stesso Data XXXX Sole Inutile girarci intorno Se c'è una cosa Che proprio non so fare È cucinare Come presidente di classe Non posso dimostrare Debolezze Se no che figura Farò le elezioni Di economia domestica Un presidente di classe Deve essere perfetto Ragazzo Ho bisogno di aiuto Sì Lei ha sempre fatto tanto Per me Aiutala Andiamo a parlarne Oh gradioso Io ho sempre Ho voluto avere un amico Che vivesse all'estero Wow La forza legame è portentosa Ti ammiro molto Quanto vorrei diventassi Che diventassi mio amico Prendi questa come segno Della nostra amicizia Venga lo tira una amica L'arma Trova carte Ok Eeeh È già finita così La richiesta di l'uno O serve altro Spero non serve altro Ti permette L'uno ti serve altro Una domanda No 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 Grazie Ecco le banane Grazie Serve altro Sono al tuo servizio Ora mi serviremo Delle noci di coppo Ok Il detto fatto Mega lontino di coppo Perfetto Ecco le noci di coppo Grazie E adesso Come posso aiutarti Vediamo Banane Noci di coppo Ora mi servirebbe Solo la ricetta D'accordo Cerchi allora la ricetta Dove la trovo Una ricetta? Mama Quel problema Avrei una domanda Dimmi tutto Conosci un piatto A base di banane E cocco? Sì Ecco Prendi Giotti una ricetta Mama Grazie Ora lo darò subito Alla presto Va bene E mia mamma Non chiede neanche Perché mi serve Un piatto a base Di banane E cocco Però va bene Una domanda Su Ecco Ecco Prendi Ho trovato la ricetta Grazie Bene Posso fare altro Per te Basta Ora smettila Mi hai aiutato Abbastanza Sei il solito Zuccone Volevo cucinare Per te Cosa? Volevo cucinarti qualcosa Con le mie mani Oh Scusami Io non Lascia perdere Prendi Gelottino e dolcetto Anche se il sapore Non è granché L'ho fatto con le mie mani Quindi ti conviene Apprezzarlo Grazie Grazie In teoria Doveva venire meglio Di così Forza Le gambe Dio Aumentato di 20 Ok Dolcetto Quando lo metti in bocca Viene volto Da un senso Di venire Da una fragranza Marona Decorazione In cioccolato E com'è E la E la Seleca nera E la Seleca nera E la Seleca nera Sì Potrebbe essere Giusto È giusto È leggendario Hai decifrato Il codice Ecco un regalo Leggendario Continua così Gelottino e classe Mega 1 340 Siamo a 680 Ragazzi Ma Per oggi Mi fermo qua 50 minuti Per aiutare Quei 3 Infami Quindi se avete Un certo momento Mette un piacere Iscrivetevi E noi ci vediamo In un prossimo video Dove andremo a affrontare Gli EF Quindi Bella ragazzina